Io fortunatamente sono cresciuto e sempre vissuto in una famiglia, in un ambiente che mi hanno sempre spinto e stimolato ad accettare la mia disabilità e a provare cose nuove. È ovvio che l'adolescenza non sia una cosa semplice, però secondo me la sfida più grande per una persona con disabilità è quella di accettare la sua disabilità. Perché se non si impara ad accettare i propri difetti, ma questa è una cosa che riguarda chiunque, anche i cosiddetti normodotati, se non si accettano i propri difetti non si va da nessuna parte. È ancora più significativo per una persona con disabilità perché se no si finisce veramente per avere, ahimè, molto spesso due reazioni che sono molto opposte fra di loro. C'è il disabile che è estremamente attivo, felice, sereno della sua vita e c'è invece quello che tende a chiudersi in se stesso, ad essere depresso. Non ti nascondo che comunque ci sono persone che comunque ti trattano e ti tratteranno sempre in maniera diversa per via della tua disabilità. Io amo dire che la disabilità sta negli occhi di chi guarda. Non tutte le persone hanno l'intelligenza di capire che la disabilità è soltanto un accessorio, una cosa che non etichetta una persona. Francesco Bocciardo, grazie per essere qua al TG Podcast. È un onore avverti in studio. Grazie a voi. È un piacere. Parto direttamente con la presentazione di chi sei, cosa fai. Partiamo col tuo palmarès che già dice tanto. Allora, vado un po' a braccio. Vediamo se mi ricordo, mi correggio se sbaglio. Nel 2011 la prima esperienza internazionale. Esatto. Gli europei, no, mondiali. Gli europei di Berlino. Gli europei di Berlino, giusto. Poi nel 2012 prima Paralimpia di Londra. Esatto. Nel 2014 abbiamo gli europei di Eindhoven e nel 2015 la prima medaglia d'oro Glasgow, Scozia. Andiamo avanti, nel 2016 ci sono stati degli europei anche? Gli europei e le Paralimpiadi. Gli europei di Funchal dove avevo vinto un oro e se non mi ricordo male due bronzi. Mentre invece alle Paralimpiadi di Rio ho vinto l'oro sui 400, stile libero. Rio nel 2016, quindi prima medaglia olimpiade. E' paralimpica. E' paralimpica. E poi nel 2018 hai fatto la scorpacciata. Sei stato a Dublino. E' Dublino sono riuscito a vincere, mi pare... Cinque, l'ho visto io. Cinque medaglie, di cui mi pare due ore o tre ore e due argenti. Il 2019... Si sta parlando di nuoto, io non l'ho detto, però ovviamente... E l'anno successivo i mondiali ci sono stati... Sono riusciti a vincere due medaglie d'oro e una medaglia di bronzo e una d'argento. 2019, giusto? 2019... Che dove era? Era a Londra. E tra l'altro bellissimo anche perché era lo stesso impianto dove avevano fatto le Paralimpiadi di Londra, che è un impianto spettacolare, proprio un esempio di riqualificazione urbanistica, e proprio anche sociale. E poi c'è stato l'anno dello stop. Pandemia. E finalmente nel 2020 più uno, come l'hanno chiamata, ci sono state le Paralimpiadi di Tokyo dove sono riusciti a vincere due medaglie d'oro e una d'argento. Vabbè, io lo sai che ti chiamerò il Michael Phelps italiano, perché fa 100 stile libero e 200 stile libero sbaglio. Esatto. Bellissimo. Tra l'altro dopo un anno di stop immagino sia dura, poi probabilmente toccheremo anche quel punto lì. Cosa ci siamo dimenticati? Io mi sono dimenticato una cosa, i due collari d'oro al merito sportivo. Diciamo che è un onore averli, però diciamo che secondo me questo è il dopo. Nel senso che dopo che uno comunque ha vinto, quando si può riprendere e riposare, la fortuna di ricevere questa massima carica. Però secondo me è importante ricordarsi il Parmalrest, però è anche importante non soffermarsi troppo su questo. Quando un atleta raggiunge certi livelli è importante dire, bene, questa cosa qui l'ho fatta, adesso bisogna iniziare a lavorare per la programmazione dell'anno successivo, in vista tendenzialmente della Paralimpiade nel mio caso e dell'Olimpiade nel caso degli atleti normodotati. Assolutamente, nuotatore, ripetiamo tutti questi achievements in piscina, però chi è Francesco Bocciardo? Al di là del nuoto, quali sono i tuoi hobby, le tue passioni? Diciamo che io ho molti hobby, molte passioni, mi piace molto leggere, mi piace molto informarmi, amo tantissimo la cultura giapponese, amo tantissimo i manga e guardo tantissime anime e penso che comunque loro siano proprio, nel bene e nel male, sia una società alla quale noi dovremmo ispirarci perché comunque hanno un grande rispetto delle regole, dell'etica ed è una cosa di cui noi forse come italiani dovremmo ispirarci maggiormente, mi piace comunque andare al cinema, uscire e soprattutto cerco di passare molto tempo con i miei amici perché comunque può sembrare assurdo, però fra tutti gli impegni che un agonista ha alla fine ci si dimentica delle persone che ti sono più vicine. Vero, vero. E dato che hai questa passione anche per la cultura, cosa hai studiato? Lavori, io so che lavori, sei fidanzato? Piccole domande tabù di routine. Sì, io ho studiato scienze politiche, in particolare il settore dell'amministrazione e da ormai tre anni, tre anni e mezzo, non mi ricordo mai, lavoro in regione al settore sport e amo dire che ho conciliato la mia passione come atleta al fatto di cercare di promuovere lo sport a 360 gradi nella mia regione e sono fidanzato, convivo ormai da quattro anni, mi pare da settembre e diciamo che non è semplice anche perché si tende tanto a vedere i sacrifici che fanno gli atleti, però non ci si sofferma, non si pensa mai ai sacrifici invece che fanno i familiari, gli amici, la compagna in questo caso perché comunque è difficile anche dover molto spesso rinunciare, anche semplicemente a dire fare tardi una sera o magari fare un weekend fuori perché ci sono gare, eventi o più semplicemente perché comunque io devo recuperare le energie e devo comunque essere sempre al 100% della forma. Quindi la giornata tipo di Francesco Bocciardo, si sveglia, lavoro, allenamento? Mi sveglio solitamente alle 6, 6 e 10, vado a nuotare, entro in acqua alle 7, ci rimango fino alle 9, 9 e mezza. Finito l'allenamento devo correre letteralmente al lavoro e solitamente riesco ad esserci per le 10, 10 e mezza e da lì solitamente non esco prima delle 18, 18 e mezza, volte anche 19. A questo punto la giornata è finita, ahimè purtroppo non riesco ad allenarmi quanto vorrei perché comunque fra anche i doveri del lavoro dovrei fare magari anche due allenamenti al giorno, normalmente riesco a farne 5-7 di allenamenti, dovrei magari farne anche 12-14, però cerchiamo di far rendere l'allenamento al massimo. Comunque una volta tornata a casa solitamente inizia a preparare la cena oppure la sta preparando alla mia compagna e mi dedico un po' a rilassarmi, recuperare le energie, chiederle come è andata la giornata, guardare il cellulare per rispondere ai messaggi e alle mail che nel frattempo ho ricevuto. Non hai tempo altrimenti certo, ma per quanto riguarda il nuoto hai una storia particolare di come hai iniziato, io so, no? Sì, diciamo che il primo approccio fra me e l'acqua non è stato proprio dei migliori. E quando sono entrato nella vaschetta dello Champagnat ero proprio un pezzo di marmo, facevo fatica e lì molti miei familiari per cercare di proteggermi pensavano che comunque per il fatto della mia disabilità non fosse il caso che io praticassi sport. Invece in quello devo ringraziare mio padre e mio nonno che si sono impuntati sull'importanza di farmi fare sport e poi sono riusciti a convincere il resto della famiglia. Non è stato semplice, inizialmente, come ho detto, l'approccio è stato complicato, però poi l'acqua è diventato il mio primo ambiente. I primi anni, non riuscendo a muovere le gambe in acqua, ovviamente andavo proprio molto a fondo, i ragazzi andavano molto più forti di me. Però poco per volta ho lavorato tanto sulla parte superiore, sulle braccia, e sono riuscito a diventare sempre più veloce fino a diventare un piccolo campioncino. Lavoro, 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 allenamento, nel senso di allenarsi, allenarsi e continuare a migliorarsi. Sì, io non credo tanto nell'idea per cui un campione deve essere necessariamente un fenomeno. Io credo nell'idea che comunque il talento, l'eccezionalità vada allenata e ricercata in ognuno di noi. Ognuno di noi alla fine è un fenomeno, un campione in qualche cosa. Bisogna però avere la dedizione, la costanza e la determinazione di lavorare. Ho conosciuto tanti ragazzi, tanti giovani con disabilità, molto più talentuosi di me, che però hanno smesso prima perché magari non ce la facevano per via dello sforzo, della tensione. Non è semplice. È una sorta di selezione che non è soltanto una selezione fisica, ma è anche una selezione psicologica, di nervi. Quindi però è giusto che sia così perché effettivamente per arrivare ai vertici devi riuscire a lavorare a 360 gradi su tutto. Assolutamente, assolutamente. Al tuo livello, voglio dire, al livello parolimpico mondiale, europeo, sicuramente c'è uno sforzo disumano, non solo a livello fisico, come hai detto, a livello psicologico. Io nel mio ho fatto anch'io l'atleta e so benissimo di cosa stai parlando ed è anche un bellissimo messaggio quello che hai detto, che non bisogna nascere fenomeni o talentuosi. le cose si raggiungono, si ottengono piano piano con lo sforzo. Senti, invece, per quanto riguarda il lavoro, io so che anche grazie a quello, ma in generale per la tua esperienza sportiva, tu hai avuto la possibilità di parlare con tantissimi ragazzi in società, in club, in scuole, e hai avuto la possibilità di divulgare messaggi importantissimi. Qual è la soddisfazione? La soddisfazione è enorme, anche perché comunque il bello del settore in cui lavoro è che non è soltanto atti amministrativi, atti meramente pratici, di cui molto spesso comunque concediamo magari un contributo per una manifestazione sportiva o per la realizzazione di un impianto. Poter andare anche a parlare nelle scuole, soprattutto nelle scuole dove ci sono ragazzi con disabilità, e fare la differenza, spingere questi ragazzi a fare sport ti permette veramente di toccare con mano il lavoro che stai facendo, proprio la diffusione della cultura paralimpica, che è una cultura che purtroppo ancora oggi è poco diffusa a livello italiano. Genova è una città comunque oggettivamente difficile, sia per fattori morfologici, sia anche proprio per caratteristiche intrinseche. Dobbiamo però cercare di riuscire ad andare oltre queste difficoltà. Siamo un'eccellenza in ambito sportivo. Come livello sportivo paralimpico siamo messi bene, però secondo me possiamo fare di meglio. È difficile, per certi aspetti è anche un po' demotivante, perché quando vai in 20-30 scuole, come per esempio ho fatto quest'anno, alla fine dell'anno, tirando le somme, so e vedo che hanno iniziato a fare sport ragazzi con disabilità che sono due, tre, quattro. Però è vero che comunque di anno in anno questo numero tende a crescere e la speranza è che questi ragazzi che hanno iniziato a fare sport poi a loro volta diventino ambasciatori come me. Penso esatto, penso che il lavoro che stai facendo sia di enorme importanza. Senti, tornando un po' all'agonismo tuo personale, mi hai detto quanto ti alleni, quanto dovresti allenarti, a volte non puoi, ma comunque c'è il tempo, la vita di un ragazzo, come tutti. Fai una dieta, hai una domanda curiosa, sai di ti scaramantici quando gareggi? Sì, ho una dieta molto precisa, cerco di non mangiare dolci, comunque so che devo riuscire a mantenere un certo equilibrio fra carboidrati, zuccheri, mangio proteine, però non in eccesso per non sollecitare il fegato. È difficile riuscire a trovare un equilibrio, è importante comunque affidarsi a un nutrizionista e anche a un mental coach, a tutte quelle figure che possano permetterti di rendere al massimo, anche perché comunque, come ammo dire, è una persona quella che va a ritirare la medaglia, però è frutto di un lavoro, di un team. Si pensa sempre che comunque sia legato al lavoro semplicemente del tecnico insieme all'atleta, però oggigiorno per riuscire ad essere dei campioni bisogna fare un lavoro a 360 gradi. Prima delle gare cerco di ascoltare la musica per distrarmi e per riuscire ad arrivare con la mente carica. Per quanto riguarda Glasgow, 2015, prima medaglia d'oro, come sono cambiate un po' le cose da lì? Diciamo che erano cambiate già prima, nel senso che comunque è stato un percorso. Se io mi fossi arreso prima, non sarebbe mai arrivata questa medaglia. Il mio debutte nazionale, come abbiamo detto, è stato nel 2011, però la prima medaglia a livello internazionale è arrivata soltanto dopo quattro anni. È stato un percorso molto sofferto. Nel frattempo avevo cambiato allenatore, ho buttato giù tanti secondi sul 400. Non è stato semplice e soprattutto comunque è stato molto inaspettato perché quell'anno sapevo di essere il primo nella ranking mondiale, però non ero sicuro di riuscire a vincere. Da lì diciamo che c'è stata più la consapevolezza la volontà di cercare di lavorare per vincere la prima medaglia d'oro paralimpica. Però dal punto di vista dei ritmi, della mia vita, degli allenamenti, non è cambiato nulla se non il fatto di cercare di smussare sempre di più i difetti, gli errori e cercare di cucire, legare sempre di più sulle mie caratteristiche. Anche perché anno dopo anno ovviamente diventa più difficile riuscire a migliorarsi, poi subentra anche un fattore invecchiamento che quindi ti porta anche per certi aspetti a peggiorare le prestazioni. Quindi per riuscire a vincere bisogna diventare sempre più forti, bisogna essere sempre più perfezionisti. E come abbiamo detto però, lo sport regala emozioni fantastiche, straordinarie. Io se posso fare una domanda più specifica che poi può non avere risposta, ma c'è stato un momento non più emozionante, però può essere stata una prima volta o qualcosa di veramente grande che ancora oggi, cioè ricordi, non ti dico le lacrime agli occhi, ma lo senti, lo senti proprio tu. Penso che mi ricorderò sempre la prima medaglia d'oro paralimpica, quella di Rio. Diciamo che sapevo di poter vincere, però arrivato lì sul blocco di partenza comunque c'era un po' di tensione ed è stato bello poter la sera stessa poi dopo la premiazione poter stringere la medaglia e potermela proprio godere. Quella lì è un'emozione che non dimenticherò mai. Non è semplice, perché comunque non è semplice gestire tutte queste emozioni. Poi uno per rendersi conto di quello che ha fatto deve comunque aspettare un po', deve rientrare a casa, anche perché ti viene un po' da pensare sono in un sogno, qualcuno venga ad armi un pizzicotto per vedere se sono sveglio. Ho un peccato che troppo tardi ti ho detto se volevi portare le medaglie non sei riuscito a passarle a prendere. Fortunatamente no, mi scherzo. No, non c'è nessun problema. Io ho una domanda di curiosità invece proprio sulle Paralimpiadi. Ho visto che appunto ci sono le varie categorie, cioè S5, S6, mi sembra che tu abbia vinto medaglie in S5, sono sicuro. Come funziona la suddivisione ovviamente tra atleti con disabilità nelle varie gare? Allora, per quanto riguarda il nuoto, perché poi ogni sport è diverso, ci sono 14 classi. Dall'S1 all'S10 ci sono le persone con disabilità fisiche, mentre invece dall'S11 all'S13 ci sono le persone con disabilità visive e nell'S14 rientrano le persone con disabilità intellettive e relazionali. Per quanto riguarda le disabilità fisiche, l'S1 è il soggetto che ha la maggiore disabilità in assoluto, mentre invece l'S10 sono persone che hanno una disabilità molto ridotta, quindi magari gli manca una mano o hanno un moncherino o magari gli manca un piede. Io ho una disabilità neurologica e sono stato classificato come S5, SM5, quindi nei misti, ed SB4 nella rana, perché fondamentalmente ogni atleta ha tre classificazioni, uno per lo stile, il dorso, e l'elfino, una per la rana, che è uno stile a sestante, visto che i due terzi della velocità vengono dati dalle gambe, e un'altra invece per i misti, che tiene conto di questi due aspetti. Le visite sono delle visite che sono fatte al fine di vedere le funzionalità motore che il ragazzo ha, prima sul lettino, poi in acqua, per vedere le funzionalità motore che si è in acqua, e dopo di nuovo sul lettino per vedere gli effetti che il freddo, l'acqua, la rigidità ti possono portare. Servono per fare in modo che all'interno di una stessa classe le persone possano competere con persone che hanno capacità funzionali uguali o simili. Poi ovviamente il talento, la determinazione e l'allenamento permetterà a una persona di riuscire ad emergere. I criteri di classificazione diventano sempre più dettagliati fortunatamente e cambiano nel tempo anche adattandosi alle nuove tecnologie che aiutano. Io comunque fino al 2016, 17, non ricordo mai, ero S6. Poi sono cambiati i criteri di classificazione e tutti gli atleti sono stati riclassificati. Quindi fai per il fatto che comunque con il passare del tempo un po' la mia patologia peggiora, fai per il fatto che erano cambiati i propri criteri, sono finito in un'altra classe. Capito, sei stato precisissimo. Grazie. Invece, per quanto riguarda Tokyo, l'ultima Olimpiade, ho qualche domanda lì, perché appunto è stata un'Olimpiade particolare senza pubblico, ma tu hai vinto i 100, i 200 metri stile libero. Due gare, voglio dire, penso le più importanti, cosa c'è? I 50 anche, ma i 100 e i 200 stile libero sono enormi. Tu come l'hai vissute queste due medaglie a Tokyo? Senza pubblico, un'Olimpiade strana dove è stato molto difficile prepararsi per pandemia, per rinvii? Ti dico, sarà, è stata veramente una Paralimpiade tosta e non tanto per il fatto che è stata posticipata di un anno, perché comunque nonostante lo stop e tutto comunque eravamo riusciti a recuperare la forma. È stato più che altro pesante dal punto di vista psicologico, perché in ogni momento avevo la consapevolezza che magari, anche se avevo fatto tutto a regola d'arte, anche se avevo fatto tutto perfettamente, un tampone negativo potesse decretare la fine delle mie Paralimpiadi. Positivo, sì. Sì, un tampone positivo che potesse decretare alla fine delle mie Paralimpiadi e questa è una cosa secondo me pesante che ha colpito psicologicamente tanti, tantissimi atleti. Infatti, dopo aver fatto i 200, ero contento perché comunque almeno quella gara lì l'avevo fatta. È vero, è vero. Io non ci avevo pensato, una domanda che volevo farti era se era stato più difficile appunto non allenarsi durante il lockdown, per il lockdown, se era stato più difficile accettare che avessero rimandato le Olimpiadi o appunto gareggiare senza pubblico ma non avevo assolutamente pensato a questo fattore che è enorme la psicologia di lui. Sì, più che altro anche perché a un certo punto un atleta inizia a fare la sua preparazione e a pensare tutto in funzione della prossima Paralimpiade o Olimpiade e quindi sapere che da un momento all'altro tutto potrebbe finire anche se tu hai fatto tutto quello che potevi anche se tu hai fatto tutto quello che dovevi è veramente devastante. è una cosa che frustrantissimo. Frustrantissimo. Io mi immagino anche che tu abbia stretto delle amicizie enormi grazie allo sport. Un po' tutti gli atleti si rivedono in questo ma quando si va all'estero si viaggia per mondiali, europei, Olimpiadi, anche la squadra olimpica. Come ti sei trovato? Hai stretto queste grandi amicizie? Io nomino un nome forse il più famoso che avevi io però immagino che appunto sia una squadra fantastica. Sì, diciamo che è il bello delle Paralimpiadi che ti permettono di conoscere atleti che fanno anche altri sport perché in mondiali gli europei tu conosci atleti che praticano il tuo stesso sport mentre invece durante le Paralimpiadi sei all'interno del villaggio olimpico e in particolare nell'edificio destinato all'Italia dove ci sono tutti gli atleti di tutti gli sport che sono italiani. Ho conosciuto tante persone diciamo che ovviamente le persone alle quali sono più legato sono i miei compagni di squadra del nuoto anche perché in un modo o nell'altro passo proprio ore e ore con loro. Tra l'altro tu quando i tuoi compagni del nuoto sempre a Tokyo hai vinto anche un argento in staffetta mista come è stata? Perché so che hai fatto le batterie poi c'è stato un cambio. Sì, diciamo che è stata una giornata pesante io la sera prima fra antidoping interviste spostamenti e mezzi avevo appena finito i 200 ed ero tornato nel mio appartamento a mezzanotte il giorno dopo mi sono dovuto svegliare alle 6 del mattino per fare la prima gara che era quella dei 100 stile libero alle 9 del mattino e sono dovuto rimanere fino alle 12 e mezza per fare la qualificazione della 4x50 mista stile e finita quella mi hanno comunicato che al pomeriggio non ci sarei stato nella staffetta per preservarmi in vista dei 100 stili libero e anche perché comunque avevano fatto anche per preservare l'energia di altri due staffettisti però è stato bello sapere che anche grazie a me che ho fatto qualificare la staffetta fra le prime 8 al mondo in finale poi loro sono riusciti a vincere la medaglia d'argento bellissimo e abbiamo parlato di atleti italiani di amicizie nelle squadre olimpiche a nuoto e non nuoto e tutti gli sport come mi hai detto alle olimpiadi ma sicuramente voi avrete incontrato anche atleti di tutte le nazioni e avete potuto condividere storie e diventare amici con chiunque mi immagino sì a me viene in mente per esempio Daniel Diaz che è stato un esempio è stato un atleta brasiliano che ha vinto e ha segnato proprio la storia del movimento del moto paralimpico e mi viene anche per esempio in mente un mio avversario di corsia Ponce Beltran diciamo che possibilità di amicizia ce ne sono state tantissime ho conosciuto anche Granitska che era un ragazzo russo permettimi di dire che lo sport secondo me dovrebbe dovrebbe unire è brutto è brutto quello che è avvenuto con il fatto che gli atleti russi non abbiano potuto partecipare alle paralimpiadi di Pechino come è brutto che per esempio non abbiano potuto partecipare agli ultimi mondiali è ovvio che comunque una una decisione dovevano prenderla una posizione il comitato internazionale olimpico sono super d'accordo su questo argomento lo trovo veramente sbagliato che lo sport si sia politizzato sappiamo benissimo i problemi che il mondo al quale il mondo va incontro ogni giorno però io sono d'accordo al 100% per me quella è stata una decisione veramente veramente sbagliata e cattiva in certi sensi perché impotenti alcuni atleti che hanno sacrificato come noi come te come noi stavo dicendo come te la propria vita per fare quelle determinate esperienze che fanno crescere anche aiuta ad unire come hai detto tu non hanno avuto la possibilità sì io poi ti dico bisogna trovarci in quelle condizioni per riuscire a perché sono cose veramente complicate però io penso che comunque più di più di duemila anni fa comunque quando c'erano le olimpiadi nell'antica Grecia tutte le rivalità tutti i conflitti venivano sospesi e sarebbe stato bello se anche questa cosa qui fosse stata possibile io mi auguro che il conflitto possa finire o tutti o nessuno giustamente è giustissimo è giustissimo e invece per quanto riguarda obiettivi a medio lungo termine ti dico guarda il sogno sarebbe quello di riuscire ad arrivare a Parigi 2024 per fare la mia quarta Paralimpiade e l'ultima è ovvio che avendo 28 anni che comunque per uno sport a livello agonistico in particolare per il nuoto significa comunque avere una certa età ora come ora preferisco concentrarmi di anno in anno cercando di lavorare e fare tutto al meglio possibile adesso in quest'estate continuerò ad allenarmi tutto però dopo diversi anni voglio farmi una vacanza di due settimane con la mia ragazza per arrivare proprio pronto anche mentalmente e rifare la prossima gara a dicembre e ora come ora però quella cosa veramente importante è lavorare lavorare sugli errori piccoli e grandi che comunque ho fatto di nuotata durante i mondiali per cercare di arrivare più carico per le prossime competizioni anche perché comunque il 2024 sembra tanto lontano però invece non lo è l'altro obiettivo che vorrei è quello di smettere di nuotare sapendo che c'è una nuova generazione di atleti paralimpici liguri che porterà avanti quello che ho fatto io e quello che hanno fatto prima di me perché può sembrare banale e scontato però un campione un atleta non è soltanto un campione è anche quella figura che permette al movimento di continuare a crescere che ispira per ispirare cento ragazzi affinché uno poi diventi il campione che porta avanti quell'eredità sono parole toccanti è vero in inglese la parola legacy si dice per intendere questo discorso che hai fatto tu ed è ed è bellissimo io credo che un atleta come te che abbia comunque come uno dei suoi obiettivi quello di lasciare ma lasciare qualcosa e a qualcuno il duro lavoro e il sacrificio che l'hanno portato ad essere chi è è fantastico invece per concludere una parte finale un po' più delicata ma della quale io amo sentirti parlare volevo chiederti qual è l'età più difficile per un ragazzo con disabilità in generale nella vita come è stata la tua infanzia quali sono i momenti più difficili guarda penso che questa sia una domanda molto soggettiva io fortunatamente ho sempre sono cresciuto ho sempre vissuto in una famiglia in un ambiente che mi hanno sempre spinto e stimolato ad accettare la mia disabilità e a provare cose nuove è ovvio che l'adolescenza non sia una cosa semplice però secondo me la sfida più grande per una persona con disabilità è quella di accettare appunto la sua disabilità perché se non si impara ad accettare i propri difetti ma questa è una cosa che riguarda chiunque anche i cosiddetti normodotati se non si accettano i propri difetti non si va da nessuna parte è ancora più significativo per una persona con disabilità perché se no si finisce veramente per avere ahimè molto spesso due reazioni che sono molto opposte fra di loro c'è il disabile che è estremamente attivo felice sereno della sua vita e c'è invece quello che tende a chiudersi in se stesso ad essere depresso quindi la prima cosa da fare è accettare la propria vita poi è vero che il periodo dell'allorescenza è un periodo difficile e complicato perché comunque bisogna affrontare molti cambiamenti e ovviamente questa cosa qui non aiuta non ti nasconde che comunque ci sono persone che comunque ti trattano e ti tratteranno sempre in maniera diversa per via della tua disabilità io amo dire che la disabilità sta negli occhi di chi guarda non tutte le persone hanno l'intelligenza di capire che la disabilità è soltanto un accessorio una cosa che non etichetta una persona quindi ti dico dipende molto da persona a persona secondo me la cosa più importante è quella di cercare di lavorare sulle famiglie con disabilità perché se la famiglia comunque non ci accetta se la famiglia non ti spinge ad essere rivoluzionario perdonami questo termine a scardinare il significato soprattutto l'opinione che la collettività nei tuoi confronti con lo stereotipo per cui il disabile debba essere una persona da aiutare da compatire se non si ha la forza di essere rivoluzionario le cose non cambieranno mai molto molto toccante è bellissimo trovo che hai ragione in tutto senti cosa dici apposta alle persone che ti dicono che sei sfortunato proprio andando su questo filo guarda io penso che alla fine non sia tanto un discorso di fortuna o non fortuna è vero magari non posso fare certe cose però allo stesso tempo la mia disabilità mi ha permesso di imparare di essere più attento di essere più sensibile sono arrivato quasi a definirla un dono e quanto è importante per un ragazzo disabile iniziare a fare uno sport buttarsi avere coraggio secondo me è fondamentale si tende a pensare che una persona con disabilità non debba fare sport invece è esattamente il contrario è vero che non tutti i tipi di disabilità ti permettono di fare tutti gli sport però è anche vero che esiste sicuramente uno sport che è adatto al tuo tipo di disabilità e fare sport nel modo giusto in maniera corretta con un tecnico preparato e che sa come seguirti ti permette di sviluppare e accrescere le tue capacità motoriche prima inizi a farlo e maggiori saranno i tuoi benefici ultima domanda sempre su questo filo che hai già toccato ma se hai un messaggio da lanciare ai ragazzi e ragazze disabili che ci seguono oggi anche non legato solo allo sport ma alla vita in generale il mio messaggio è quello di provarci di buttarvi che sia una ragazza che vi piace che sia un lavoro che sia la formazione lo studio dovete comunque provarci se ci sono delle ingiustizie che avete subito dovete cercare di combattere per fare in modo di cambiarle dare voce alla vostra voce interiore perché comunque come ho detto se non ci mettiamo in gioco le cose non cambieranno mai non è semplice ovviamente chi non si schiera chi non si mette in gioco è una persona che non ha problemi perché per certi aspetti è più semplice stare in disparte però significa anche avere una vita meno bella che ci regala meno emozioni quindi provateci non abbiate paura Francesco è stato un podcast fantastico mi sono emozionato potrei andare avanti un'ora ma voglio ringraziarti un sacco per essere stato qua e non so che altro dire davvero grazie grazie per chi sei per quello che fai giornalmente ed in bocca al lupo per il tuo futuro crepi il lupo e grazie mille a te per avermi ospitato e avermi dato questo spazio grazie Francesco grazie arrivederci ciao